Una cesta con le chiavi dei loro bed and breakfast a simboleggiare il rischio di chiusura, che sarebbe certa qualora dalla Regione Campania e dal Governo non arrivasse il sostegno finanziario necessario, denunciano i titolari di case vacanze e bed and breakfast che sono scesi in piazza a Napoli per manifestare. Credito d'imposta, blocco del canone RAI, equiparazione fiscale, delle diverse realtà che obitano nel settore che permetterebbe a tutti di accedere agli aiuti di governo. Queste alcune delle proposte avanzate durante il presidio che si è svolto davanti al palazzo della Regione Campania. Fabrizio Delella, portavoce della protesta. Noi non abbiamo nessun tipo di sussidio e nessun tipo di aiuto. Questa è un'anomalia e bisogna assolutamente parlarne e cercare di trovare una soluzione. Perché, ripeto, la Campania, se non è l'unica regione, ma è tra le pochissime, che effettua questa discriminazione. Che proposta avete? La nostra proposta è proprio quella di includere la nostra categoria che diventi un'unica categoria e che non sia divisa in due rami, codice fiscale e partita IVA. Quindi per avere un sostegno, per darci una mano e passare questi prossimi sei barra otto mesi con la speranza di rimanere aperti, perché così noi chiuderemo tutti quanti.